Sono essenzialmente quattro a pescare i ponti interessati dall'opera di messa in sicurezza, abbellimento, manutenzione e migliorie, quelli del mare, risorgimento, capacchietti e paulucci. Il sindaco Carlo Mascia e l'assessore Luigi Albore Mascia precisano con imprese tecnici che si parte da subito. C'è una prima fase di studio, poi si procederà passo dopo passo. Quasi un milione di finanziamento, dice il sindaco Mascia, alla presentazione in un luogo simbolo, la Madonnina, proprio all'inizio del ponte del mare. Quattro ponti della nostra città, il ponte del mare, il ponte d'Annunzio, il ponte risorgimento e il ponte paulucci, che avevano bisogno di una ristrutturazione di risanamento strutturale fondamentale, perché alcuni ponti sono veramente in condizioni difficili, ma noi assieme al risanamento strutturale interveniamo anche dal punto di vista estetico, perché i ponti nella nostra città rappresentano l'unione di due territori e soprattutto rappresentano dei simboli per Pescara nel mondo. Le imprese che hanno vinto l'appalto sono di Pescara e dunque mi aspetto un buon lavoro appassionato per il miglioramento della vita dei cittadini, aggiunge il sindaco. Ma quali saranno gli interventi fondamentali? L'assessore Luigi Albore Mascia. Confidiamo anche nel fatto di valorizzare esteticamente, di valorizzare anche la fruibilità di questi quattro ponti, attraverso una illuminazione maggiore, attraverso una valorizzazione dei manufatti, per esempio il contrafforte del ponte risorgimento, ma anche una rivisitazione del ponte del mare attraverso il miglioramento dell'illuminazione già esistente, quindi una modernizzazione di questi quattro ponti. Ce n'è uno un po' particolare? Il ponte Paolucci, dagli archivi storici abbiamo verificato che quello che noi chiamiamo ponte dell'asse attrezzato si chiama ponte Paolucci e lì ci sarà un intervento molto particolare, soprattutto sulla passeggiata, sulla parte pedonale, con la creazione di una sorta di terrazza che guarda verso il mare. I lavori per i quattro ponti saranno ultimati entro la primavera del prossimo anno.